ciao ciao a tutti nuova flash review su questo filo un filo che ha acquistato da Decathlon e della marca Caperlan eccolo qui e è una bobina da 150 metri lo spessore è di 0,15 mm e l'ho pagato a 9 euro e 95 si trova nel reparto fili trecciati per la pesca spinning di Decathlon e ho voluto appunto provarlo perché mi serviva urgentemente questa tipologia di filo che è uno smoke trecciato per completare una lavorazione ahimè però non mi è stato molto utile o meglio ho lavorato tutta la giornata di oggi con questo filo quindi ho voluto registrare adesso questo questo video per darvi un impressione proprio a caldo ho lavorato ad un tubolare herringbone che adesso vi mostro praticamente questo qui io avevo bisogno di un filo trecciato perché non non mi trovo a lavorare con i fili da tessitura come il miuchi eccetera li utilizzo veramente raramente e con mio sommo dispiacere ho notato che praticamente utilizzando questo filo la lavorazione non è risultata uniforme inoltre come vedete la consistenza è pari a zero cioè sarà un filo sicuramente più resistente dei fili da tessitura normali ma la consistenza del lavoro è praticamente inesistente non ha sembra veramente un lavoro forse se l'avessi fatto con miuchi sarebbe venuto più rigido mi rendo conto però io ho paura ad utilizzare quella tipologia di fili perché essendo dei fili comunque da tessitura quindi fibrosi assorbono l'umidità con il passare del tempo e mi sono trovata con dei lavori rovinati per questo motivo quindi tendo a non utilizzare più quei fili anzi mi dispiace anche perché ne ho veramente un bel po quindi un po di rocchetti ma comunque cercherò di smaltirli nel tempo e magari non lo so utilizzare in qualche lavoretto ad embroidery o in qualcosa che comunque tengo per me e niente quindi questa è la consistenza del lavoro non mi è piaciuto per niente per questa tipologia di lavori un'altra un altro problema di questo filo è che praticamente insomma la lavorazione tende ad allargarsi e stringersi qui non si vede tanto bene ma vi assicuro che è così e anche perché ho provato anche ripassare il filo all'interno della lavorazione poi mi sono fermata perché mi sono resa conto che non era il modo giusto appunto di lavorare con questa tipologia di tubolare e che per una carenza del filo insomma io ho dovuto fare il lavoro tre volte una volta l'ho fatto con il nylon ma non mi piaceva l'effetto un'altra volta con il coverland ora mi sono decisa ad acquistare il fireline e appunto farò questo lavoro con quel filo lì una volta che sarà completato ovviamente ve lo mostrerò un'altra caratteristica negativa di questo filo è che tinge parecchio di più del del fireline smoke vi faccio vedere praticamente cioè ecco qua come vedete c'è il segno del filo sulle mani anche qui e quindi anche per questo insomma diciamo che non mi piace tanto non so in altre in altri lavori come si può comportare sicuramente lo potrò utilizzare per esempio per le embroidery e sostituirlo appunto al miuki che avevo anche perché non avevo un filo nero e trecciato e nulla magari fatemi sapere anche voi cosa ne pensate di questo filo se l'avete usato come vi trovate se è stata una mia impressione o se voi vi siete trovati bene a lavorare con questo filo c'erano ovviamente anche altri marchi ma non mi sono azzardata a provarli perché non sapendo appunto come mi sarei trovata e costando anche un bel po in più ho deciso di prendere questo per provare ahimè l'esperimento è fallito però comunque lo utilizzerò come filo da battaglia tra virgolette quindi io spero che questa review possa essere d'aiuto a qualcuno se avete dei dubbi se prendere o non prendere questo filo spero che la mia esperienza anche se relativa possa servirvi e noi come sempre ci vediamo prestissimo con nuovi video un bacione alla prossima ciao ciao